Ben trovati e bentrovate ad A Tu Per Tu la trasmissione di Trentino TV realizzata in collaborazione con il Consiglio della Provincia Autonoma di Trento. Siamo con il consigliere provinciale della Lega, Dennis Paoli, ben arrivato nei nostri studi. Grazie. Allora, parliamo subito con lei di mobilità, un tema di grande attualità, mobilità green, altrettanto attuale, in particolare per alcune zone del Trentino, ovvero la Piana Rotaliana e la Valle di Nonna. Ecco, un argomento, un tema su cui lei si è impegnato molto. Sì, diciamo che dopo alcuni sviluppi che sono partiti chiaramente a inizio legislatura, di alcune mie proposte, su cui stavano lavorando anche le amministrazioni locali, siamo arrivati sicuramente al completamento di quella che è la ciclo pedonale alla galletta, che finalmente collega in completa sicurezza i pedoni e i ciclisti tra Mezzo Lombardo e Mezzo Corona, quindi un collegamento importante per la Rotaliana, anche perché questa viabilità green permette anche di raggiungere la stazione dei treni di Mezzo Corona e quindi avere tutta la Piana Rotaliana collegata in via ciclo pedonale. Oltre a questo, chiaramente, mi sono impegnato per migliorare anche i collegamenti con le comunità vicine, quindi è stato approvato un mio ordine del giorno, nello scorso assestamento, proprio nella direzione di dare il mandato alle comunità, con la regia anche della provincia, di parlare di collegamento ciclo pedonale anche tra Rotaliana e Valdinon, quindi fondamentalmente il tratto mancante che collega Mezzo Lombardo e Mezzo Corona alla Rocchetta e da lì, insomma, c'è già anche il primo progetto che è partito tramite la comunità della Valdinon con il comune capofila Ton per il tratto Rocchetta-Sabino, che anche quello poi sarà utilissimo per chiudere il cerchio e avviare anche poi il collegamento di tutta la Valdinon con la Rotaliana e la vicina anche altopiano della Paganella. Parliamo poi anche di un altro collegamento importante per le zone che sono interessate, ovvero il collegamento tra l'altopiano della Paganella e, diciamo così, le giudicalie, ecco, in particolare. Sì, è di pochi giorni fa una risposta a un mio documento in cui ho interpellato la Giunta in merito proprio al proseguimento dei lavori di messa in sicurezza della SS 421 tra il lago di Molveno e il lago di Tenno. Sappiamo benissimo come sia importante questa arteria per quanto riguarda il turismo ma anche per il traffico pendolare e per gli stessi abitanti della zona. Qui la Giunta aveva già stanziato 6 milioni di euro circa, divisi in due lotti, un lotto legato ai disgaggi, quindi le reti anticrollo massi che sono in completamento, in fase di completamento. Il secondo lotto è proprio notizia di pochi giorni da parte della Giunta che la conferenza dei servizi ha approvato fondamentalmente il progetto a cui ha richiesto alcune modifiche che verranno poi approvate e quindi anche i lavori del secondo lotto che riguardano fondamentalmente l'allargamento, la sistemazione dei tratti più pericolosi potrà partire con l'appalto a inizio 2023 e nella primavera l'inizio cantiere, quindi l'inizio dei lavori. Quindi anche un messaggio importante per questa importante zona turistica del Trentino. Cambiamo argomento e parliamo di un'altra questione che è proprio molto recente. Durante la festa del ringraziamento proprio lei insieme al Presidente della provincia Fugatti e l'assessore Zanotelli avete firmato una petizione riguardo al cibo sintetico. Ecco, questa è una questione molto importante per lei che vuole portare avanti anche magari nei palazzi romani? Assolutamente sì, è stato un momento importante quello della festa del ringraziamento perché abbiamo dato un segnale importante contro il cibo sintetico, contro il cibo prodotto in laboratorio e abbiamo dato un messaggio agli agricoltori, agli allevatori che siamo favorevoli al cibo naturale. Quindi io ho da poco presentato un documento che verrà discusso adesso in dicembre in fase di bilancio proprio per chiedere al Consiglio di prendere una decisione e mandare un messaggio anche ai tavoli romani in questo senso, proprio per difendere la zootecnia trentina, le filiere agrozootecniche trentine, regionali ma sappiamo anche nazionali. In Trentino ci sono 12 prodotti a marchio DOP e IGP di cui 4 di origine animale quindi noi siamo fieri dei nostri prodotti, dei nostri allevatori, dei nostri agricoltori e dobbiamo difendere il cibo naturale. Sappiamo che il cibo sintetico viene prodotto in bioreattori quindi con un utilizzo maggiore di energia e di acqua e quindi con un impatto ambientale maggiore. Sappiamo che a livello tradizionale, valoriale, culturale il cibo sintetico è contro quello che sono i nostri principi quindi contro quello che è il collegamento natura e cibo e quindi questo dobbiamo difenderlo perché il cibo naturale viene fatto con il sudore di tante famiglie trentine del campo agroalimentare e di conseguenza siamo a favore di questa petizione, di questa richiesta fatta da Coldiretti e quindi la vogliamo portare sui tavoli romani proprio perché ci difenda dal cibo sintetico e vengano avviati dei rapporti con il ministro in merito proprio per dire no al cibo sintetico. Siamo in chiusura, grazie al consigliere provinciale della Lega Dennis Paoli vi do appuntamento ad un'altra puntata di A Tu per Tu. Arrivederci. Arrivederci. Grazie a tutti.